Bene, anzitutto buongiorno a tutte e ben ritrovate e ritrovati. Avete dormito bene? Sì? Sì, sì. Allora siamo pronte per iniziare quest'altra giornata insieme. E quello di cui io vi parlerò sarà appunto riguardante la progettazione e la realizzazione di un video. Credo che i video ormai sono gli strumenti per eccellenza quando si vuole catturare l'attenzione. L'attenzione di qualcuno in modo particolare quando si vuole realizzare qualcosa anche immagino nei confronti del proprio istituto. Penso a un intercapitolo, un capitolo generale, un incontro con i giovani. Non è così? Quindi è un po' questo l'obiettivo di riuscire a creare uno strumento che renda visibile e significativo il proprio evento, l'evento di istituto. Voi avete usato già video, per rendermi conto un po' anche del gruppo che ho davanti. Usate già dei programmi? Sì. Quali programmi conoscete intanto? Movie Maker? Premiere? Siamo già avanti. Poi? Magix? Magix? Sì. Film... Come? Wondershare? Filmora? Sì. Bene. Bene. Diciamo che questi programmi li ho conosciuti da quando sono usciti. Li utilizzo anch'io. E sono quei programmi amatoriali, no? Che tutte noi, così, scaricando, oppure sono, ad esempio, Movie Maker, fa parte del pacchetto, del pacchetto di Windows. Quindi è stato uno dei primi ad essere inserito nel pacchetto di Windows. Sono tutti programmi, a parte Movie Maker, ma a pagamento. Sono programmi a pagamento. Oggi la rete ci offre dei programmi, tra virgolette, gratuiti. Perché noi sappiamo che non c'è niente di gratuito, vero? E non sono gratuiti perché? Perché quando ci chiedono di accedere, ci chiedono la nostra email, che fa gola a tantissimi, avere un numero enorme di email. Perché diventano lo spazio per poterci poi inviare una montagna di pubblicità o di cosiddetto spam. Io userei, per oggi, un programma che ho scoperto, poi ce ne sono Smilebox, ad esempio, non so se ne avete mai sentito parlare. Smilebox, Wondershare Filmora, che io utilizzo tra tutti, che conosco, Magix, eccetera. Quello che ultimamente utilizzo di più è Filmora, Wondershare. Solo che è difficile oggi, perché avete anche voi computer, utilizzare Filmora, perché richiede un'iscrizione molto lunga, richiede un accesso un po' particolare. Allora, ho pensato di proporvi, così se volete anche voi seguirlo, questo programma gratuito che si ispira a Moviemaker e si chiama Kizoa. È un Moviemaker gratuito, almeno per tre mesi, sei mesi, a me scade oggi, proprio, l'ultimo giorno. Ma stasera è mezzanotte, quindi faccio ancora in tempo. Giusto, giusto, guardate, giusto. Ci mancava solo questo. Allora, se abbiamo un mucchio di foto per realizzare un filmato da mostrare in comunità, oppure durante un incontro, oppure creare un video, ma non ho intenzione di installare programmi specifici, perché questa è la differenza, cioè Filmora, Wondershare, Magix, eccetera, ci chiedono tutti di installare il programma. Se noi invece andiamo in internet, troviamo una miriade di programmi online, gratuiti per un certo periodo, sei mesi, tre mesi che possiamo provare. Allora, io quest'oggi, come vi dicevo, vi propongo questo programma, che è un Moviemaker online, è un video editor. Chizoa, che appunto è considerato tra i dieci migliori siti per creare presentazioni online. Lo conosce qualcuno di voi? No. Bene, una lo conosce almeno. Chizoa è un web application, programma per fare video, tra le più raffinate in materia di slideshow, e certamente anche questo richiede la registrazione gratuita. è un nome molto particolare, Chizoa, che consente appunto di fare animazioni molto interessanti, che adesso vedremo. L'ho utilizzato, lo utilizzo perché consente anche un'interfaccia in varie lingue. Qui abbiamo un gruppo internazionale e potete iscrivervi, se qualcuno lo vuole fare già fin d'ora, crearsi appunto il proprio accesso, c'è l'interfaccia in italiano, in inglese, in spagnolo, in francese, ma in tantissime altre lingue anche. E poi oltretutto c'è una guida che vi assiste in ogni passaggio. Questo programma ha diverse particolarità, ma alla fine sono tutti molto simili i programmi per realizzare video. E hanno una caratteristica tutti. Voi avete fatto dei corsi per fare questi video? No. Perché? Perché sono tutti programmi che uno impara facendo. Non c'è una scuola, almeno. Uno li riesce a realizzare per intuito, per prova ed errori. Si prova, si sbaglia, si ricomincia, tanto non succede nulla, no? Finché non viene pubblicato. Per cui è questo il metodo dell'apprendimento online proprio. Prova ed errori. Quando voi avete un ragazzo, una ragazzina, nipoti, eccetera, che conoscete, gli date un telefonino in mano, tranquille che non vanno a leggere le istruzioni. Perché loro vanno per intuito, provano, sbagliano, ritentano. Non c'hanno problemi, perché questa è la modalità di apprendimento delle nuove tecnologie. Allora, con Chizzoa cosa possiamo fare? Realizzare magnifici slideshow. Aggiungere musica alle presentazioni create. Inserire testi in diversi stili e colori per ogni foto. Modificare le foto e le immagini anche tramite un editor grafico che è dentro questo programma. Puoi salvare la presentazione, masterizzarla su DVD o su computer. Fare copia e incolla del codice dello slideshow in siti, blog personali, per poterli esportare. Inserire effetti di transizione nel passaggio tra un'immagine e l'altra. Utilizzare animazioni per rendere più multimediale lo slideshow. Spedire le presentazioni create via email oppure condividere su Facebook. Insomma, si possono fare un sacco di cose. Prima di tutto, noi dobbiamo decidere che cosa vogliamo fare. Questo è il punto principale. Non è tanto, io mi metto lì, zampetto e provo. Io devo avere già in mente il mio progetto. La realizzazione del video è l'ultima cosa. L'ultima cosa. La prima cosa che dobbiamo fare quando si realizza un video, che cos'è secondo voi? Praticamente, non soltanto a livello di pensiero. Cosa dobbiamo fare? Uno schema? Ma concretamente poi? Il messaggio che noi vogliamo dare. Il messaggio che noi vogliamo dare. A chi lo voglio dare? I nostri destinatari. A chi voglio dare questo messaggio? Perché se lo voglio dare a un gruppo di giovani userò un tipo di musica. Ad esempio, se lo voglio dare a delle religiose userò un altro tipo di musica, di ritmo. E per fare questo che devo fare? Mi devo preparare delle cartelle. La prima cosa da fare è prepararsi sul proprio desktop delle cartelle. in cui inserire che cosa? Inserire anzitutto il materiale che poi io già penso di usare all'interno della preparazione del video. Allora, mi devo creare una cartella per la musica, dove già inserisco le musiche che io ho intenzione di utilizzare. Poi una cartella per le immagini, una cartella dove voglio mettere i testi che io voglio utilizzare per poi fare, al momento in cui realizzo il video, copia e incolla delle frasi. Non vado a cercarmele al momento, le immagini, no? O i testi. Io devo avere già un canovaccio, uno schema. Chiaro? Quindi il primo passo, quando io realizzo un video show, è quello di, anzitutto, decidere con Kizzoa che tipo di video voglio fare. Se è un video che me lo voglio preparare tutto dall'inizio, oppure usufruire dei modelli che il programma mi offre. Questo programma, nel momento in cui noi lo utilizziamo nel suo formato gratuito, ci consente di fare delle presentazioni non più grandi, di dimensioni ulteriori a un giga. Quindi dobbiamo fare molta attenzione quando noi salviamo i materiali. Non possiamo prendere un video da due giga, salvare e mettere nel nostro cartello un video da due giga. Dobbiamo mettere dei video brevi. Dei video brevi. E anche che non abbiano una dimensione, una pesantezza troppo grande. Perché nel momento in cui noi andiamo a salvare le foto, le animazioni e tutto, diventa un materiale che non riusciamo poi a trasferire in altri, in altri, non so, in Facebook o in altri, perché non ce lo accolgono perché è troppo grande, occupa troppo spazio. Mentre se noi invece vogliamo fare anche dei video, dei video più ricchi e anche con immagini migliori, allora dovremmo acquistare la versione a pagamento. Allora, la versione a pagamento ci offre le possibilità di utilizzare più giga di immagini, di video e tutto di musica. Come funziona? Possiamo cambiare i nomi di questi programmi, ce ne sono di tanti tipi, ma guardate, il funzionamento ha preso una modalità, è sempre quello. C'è uno storyboard e su questo si trascinano le immagini. Si trascinano le immagini, si trascinano la musica, si trascinano i video che noi abbiamo salvato per inserire. Dobbiamo provare a prendere questi materiali e trascinarli. Adesso però lo vedremo insieme, faremo insieme l'esperienza. Tutti si rifanno un po' allo stile di Movimaker, quello è lo sfondo comune a tutti i programmi di video. Questo per quanto riguarda Chizoma, poi adesso facciamo l'esperienza, quando abbiamo ultimato il lavoro, prima di salvarlo, c'è la possibilità di fare un'anteprima, di vederlo prima di salvarlo, sempre. E se siamo soddisfatti, poi lo possiamo poi inserire, masterizzare, inserire in un blog o salvare nel computer. Vediamo allora il nostro programma. Vogliamo andare in internet? Digitiamo, ecco, ricerchiamo Chizoma. Ci dice che è un Movimaker gratuito, vedete? Ci siamo? Vedete qui c'è la possibilità di scegliere le lingue? Guardate in quante lingue è. Anche in cinese, se non sbaglio. E questa è la caratteristica che lo rende anche un programma di video di eccellenza, perché in genere hanno italiano e inglese come possibilità, come interfaccia. Io qui ho già fatto, facciamo il logout, usciamo. Entra. Ok. Vi siete registrate? Se non avete ancora un account, eccolo qua, non hai ancora un account, io invece ce l'ho. Accedi qui se sei già iscritto. Vabbè. Ecco. L'altra cosa semplice è che per creare l'account non c'è bisogno di mettere tutti i nostri dati personali, ma semplicemente ci chiede l'indirizzo e-mail e una password. E vi raccomando, questo che mi viene dall'esperienza, createvi un piccolo quaderno, cartaceo. Ritorniamo, perché il cartaceo non si può buttare via, anche se siamo nell'area digitale. tenetevi sempre un quaderno, la mia esperienza mi dice, quando vengono da me le sue ore, ah, devo accedere a carta freccia. Bene. C'ho il numero però, il numero, tutti i numerini per fare il biglietto. Benissimo. E la password? Non me la ricordo. E quindi, rifai l'iscrizione all'account. Ma questo, guardate, è una cosa così comune alla quale però dobbiamo fare tanta attenzione. Io vi consiglio, mi sono fatta una piccola rubrica per alfabeto e a seconda dell'alfabeto, lì dentro mi scrivo i programmi, gli account che ho creato, Kizoa, SlideShare, ma tutte le cose che mi interessano e quindi vado a colpo sicuro. L'importante è non perdersi l'agendina, ecco, questo anche è importante, perché c'è anche questo rischio. Quindi è importante creare questo spazio cartaceo in cui scrivere. Allora, indirizzo email. Vi state scrivendo? Bene. Password? Io. E poi dovete mettere la spunta ho letto ed accetto le condizioni generali di utilizzo per poterlo. Ma io sono già iscritta, vado qui, metto il mio indirizzo email. Un'altra accortezza, che mi viene dall'esperienza. Tenete sempre una mail che voi date quando vi chiedono l'iscrizione, newsletter, eccetera. Una mail che non è quella principale vostra. Chiaro? È molto importante, perché così voi sapete distinguere la vostra personale e quella che invece usate per le newsletter, per le informazioni, eccetera. io in questo caso uso quella di Tiscali. punto R ecco qua. Accedo. Guardate un po' che bel messaggino che ho. il vostro account basic gratuito scadrà. Scadrà quando? A partire dal giorno 28 maggio. Quindi, quindi, domenica, domenica. Quindi ci sono ancora in tempo. Infatti l'ho provato in questi giorni prima di venire. Ho tirato un sospiro di sollievo, altrimenti dovevo cambiare. perché avrei potuto prolungarlo, ma ovviamente a pagamento. Oppure avrei dovuto fare l'iscrizione con un altro email, perché altrimenti non me la prendeva questa. Dice, no, tu hai già usufruito per sei mesi di questo programma. Adesso non me lo puoi più chiedere gratuito. Adesso lo devi acquistare. Oppure, oppure un altro escamotage è proprio questo. Quello di creare un altro account email, e dare un altro account email, allora ve lo danno per altri sei mesi. Sei mesi. Sì, io l'ho fatto a gennaio perché abbiamo avuto l'incontro a gennaio e quindi per l'altro incontro anche l'ho utilizzato. Benissimo. Vedete, lui mi invita a passare alla versione premium che è quella a pagamento. Non sono molto costosi. Io ho fatto un'iscrizione. Quello che uso di più e che in questo momento amo di più è Wondershare Filmora. Questo è quello che io utilizzo. Per quello io non mi sono iscritta. Ho usato la versione free perché lo utilizzo in questo contesto per dare un'idea di come si crea un video. Perché per creare un video questo tipo di programma è molto semplice e molto utile. Però il programma che io uso per eccellenza in questo momento è proprio Wondershare Filmora. Non è un premiere che appunto sono programmi specialistici e costosi tra l'altro. Molto costosi. Invece l'abbonamento per Wondershare costa 20 euro per un anno una cosa del genere. Quindi si può fare. Si può fare. E l'altra cosa che vi consiglio che mi viene dall'esperienza è anche questa. Fateli a tempo gli abbonamenti. non abbiate fretta di stare soltanto su un tipo di programma. Io ho iniziato la mia realizzazione di video amatoriali. Vi invito ad andare su YouTube. Voi cercate Pina FSP tutto attaccato e lì ci sono i miei video. Io ho cominciato nel 2005 quando è morto Giovanni Paolo II con un video grazie a Giovanni Paolo e ho cominciato lì inserendo questo video e ho visto che sono arrivata oggi a mezzo milione di visualizzazioni. Per cui penso che sia uno dei video in italiano più visti. E l'ho fatto proprio in modo molto rudimentale con Movimaker. Molto difficile anche perché poi Movimaker si inceppa va in crash non è molto facile da usare. E a volte ti cancella tutto il lavoro che tu hai fatto e devi ricominciare da capo non vi dico. Quindi io dopo un po' l'ho abbandonato e sono passata a Magix. Ecco anche Magix un po' più costoso costa circa 60 euro tutto il pacchetto di Magix ma anche con quello ho lavorato tanto nel corso degli anni ho realizzato diversi video se voi andate di là nel tavolo ho lasciato qualche ho lasciato alcuni cd che ho preparato perché poi realizzavo questi video siccome me li chiedevano tante persone quando facevo anche gli incontri li ho messi per argomento in un cd ad esempio ho fatto un cd sullo spirito santo sulla preghiera dello spirito santo perché per noi per la nostra realtà di consacrate molte volte meno così a noi succede non so da voi quando facciamo un incontro beh iniziamo con una preghiera allora proiettiamo una preghiera visualizzata utilizziamo e quindi ho raccolto questi cd per argomento ma non posso venderli nelle nostre librerie paoline ecco questo input di fare dei video dei cd mi viene anche dai nostri centri apostolici perché tante religiosi chiedevano ma non potete preparare a livello editoriale dei video che ci possono servire per l'animazione per i giovani ecco ad esempio se voi vedete cercate in youtube questo video ho realizzato un video sulle parole sulla musica del canto di Neck se non ami lo conoscete questo canto se non ami ecco un canto che i giovani amano perché è un canto di un cantautore molto noto ai gruppi giovanili ai giovani di oggi e anche ai meno giovani ma se non ami è la trascrizione in un linguaggio moderno di che cosa dell'inno alla carità è vero Giulia lo conosci ecco dell'inno alla carità quindi e ho preparato ma per noi anche potrebbe essere utile quando iniziamo un incontro che appunto ci immette a parlare non so della vita comunitaria cioè va benissimo anche quello quindi ho cominciato a realizzare un po' questi cd che raccolgono questo materiale di là non so se ce n'è qualcuno è rimasto sono rimasti ancora credo qualche copia sì bene allora adesso noi passiamo a vedere come possiamo realizzare un videoclip breve però io vi ho detto una cosa dobbiamo fare la raccolta del materiale che noi pensiamo possa servirci in ordine al tema che pensiamo di realizzare giusto se è un intercapitolo se è un incontro un'assemblea prendiamo il nostro incontro qui facciamo finta di prendere il nostro incontro che è iniziato ieri beh se io dovessi fare un videoclip comincerei da che cosa beh comincerei anzitutto dal luogo comincerei a fare qualche foto all'edificio che ci accoglie comincerei a fotografare Castel Sant'Angelo o a raccogliere foto no? a raccogliere foto che sono già presenti di questa zona di Roma che è meravigliosa tra l'altro comincerei a raccogliermi un po' di queste foto farei la cartella come qui ho fatto io ho qui usato vedete dov'è qua ho usato comunicare la missione ecco qua ho pensato di ad esempio fare un piccolo videoclip sul senso del viaggio il viaggiare mi è venuto in mente ho pensato questo ma potevo salvare anche le foto di questo nostro incontro e ho cominciato a crearmi vedete queste tre cartelline allora la prima con delle immagini riguardanti appunto il viaggio ho trovato questa bella immagine poi no andiamo dietro ancora ho preso questa immagine la strada pensando al viaggio ho immaginato questo ma ne ho prese poche giusto per darvi un'infarinatura adesso io non ho la pretesa di creare un video con tutti i crismi poi ancora cosa ho messo ancora qui ecco ho messo la valigia ho cercato di pensare un volo un aereo ho pensato di immaginare alcune immagini ma quando voi preparate un video la cartella delle foto deve essere molto ampia mettete più foto che avete o che trovate pensando a quello che voi volete dire poi ho cercato la musica una musica sperando che vada ho detto beh per il viaggio vediamo un po' una musichetta che può andare ecco ho pensato a questa musica sentite che è carina un po' veloce ok però potete trovarne tante di music diverse di musiche attenzione non cambiate troppe volte la musica perché distrae chi vede chi vede il video ok andiamo avanti poi mi sono salvata anche qualche video ho preso questo video vedete che dà idea di movimento no? ma bisognerebbe salvarne molti di video riguardanti il viaggio adesso qui siamo qui per fare delle prove poi dovete è inutile dovete farlo personalmente il video dovete metterci lì ma soprattutto dovete avere la passione che è l'ingrediente fondamentale se voi non avete la passione e la pazienza vi assicuro che non potete fare nessun video ce l'avete questa? e ve la dovete far venire eh? perché altrimenti non si fanno i video perché ci vuole tanta pazienza e tanta passione ecco questi due ingredienti sono fondamentali allora andiamo avanti vi premetto che io appunto sono un'autodidatta eh in questo campo non ho mai fatto nessun corso mi sono messa lì traffico provo sbaglio viene bene gli piace non gli piace lo faccio vedere a qualcuna delle mie consorelle anche dico senti ma a te ti dice qualche cosa ah sì ma lì è troppo veloce guarda là è troppo troppo lento quella foto non mi dice niente perché ce l'hai messa? ma per riempire perché c'aveva uno spazzetto di musica non va bene taglia la musica mi spiego? c'è molto lavoro dopo tre in tre minuti di video eh? c'è tanto lavoro io mi ricordo che il primo video che ho fatto eh che era un video eh mi piaceva tanto ero stata in America Latina e mi piaceva una una canzone un canto sullo spirito santo vieni fuoco santo vieni ven fuoco santo ven ma mi piaceva perché io lo devo sentire quando voglio visualizzare qualcosa o voglio visualizzare un canto io prima lo devo sentire dentro di me devo sentire che mi muove qualcosa delle mie emozioni muove le mie emozioni altrimenti non lo faccio se qualcosa che mi mi fa sentire mi scalda il cuore ecco allora lo faccio è come una creazione mia perché io dentro quando noi facciamo un dipinto quando noi facciamo una foto sapete noi ci mettiamo le nostre emozioni lì ci mettiamo quello che noi siamo ecco quindi un po' il frutto di quello che noi non diciamo a parole ma diciamo attraverso le immagini la musica dei video allora come no anzi fatemele perché poi dopo meglio sì il discorso della musica è sempre un po' un problema sì perché c'è la musica coperta da copyright ci puoi dire qualcosa su questo? perfetto adesso vi dico io dove ho preso dove ho preso questo materiale affinché sia esente da copyright perché ad esempio se voi fate dei video con le immagini di Papa Giovanni Paolo II di Papa Francesco o per fare degli esempi ecco queste immagini si è bloccato? no no non ha toccato niente si è spento lui guardate tutte tutte cos'è successo? si è spenta la lampada non vorrei che si fosse bruciata la lampada guardate siamo proprio messi male ok io intanto vado avanti con il mio discorso tanto questo non c'è bisogno di avere le immagini ma sono indicazioni molto utili che sono previe alla realizzazione di un video il video non vi dovete preoccupare di stare lì a zappettare a metterlo su dovete prima pensare prima pensare quando voi preparate un video dovete fare attenzione sempre che ci siano delle immagini che siano senza copyright per questo motivo ci sono dei siti io ve li ho lasciati qui quella musica che io ho preso quelle immagini che io ho preso sono tutte immagini di tre siti che io volevo adesso farvi vedere mostrarvi perché si possono salvare e sono senza copyright questo materiale ok? per quello oppure un'altra modalità è questa l'altra modalità è la seguente ossia quando voi preparate dei video dove avete dove inserite del materiale che è con copyright alla fine nell'ultima slide scrivete cosa scrivete? uso privato chiaro? scrivete uso privato così in questo modo veniamo a sapere veniamo a comunicare che si tratta di un video che è appunto non utilizzato per fini di lucro che noi non lo mettiamo in una libreria in un centro non lo vendiamo così al pubblico perché altrimenti andiamo incontro a a sanzioni chiaro? ha ripreso ha ripreso ha ripreso evviva evviva c'è qualcuno che ha qualche energia non troppo positiva eh bene adesso vi faccio vedere segnatevi i siti questi sono importanti questi siti che appunto e sono molto belli eh da cui potete scaricare allora siti eccoli qua allora un'altra cosa importante quando preparate il materiale per mettere poi nel programma dovete avere un certo tipo di formato ad esempio il formato musicale oppure di di video che voi volete inserire è importante che sia ad esempio il materiale musicale che sia in formato mp3 ok allora e voi invece avete un altro tipo di formato e volete metterci proprio quella musica come fate? conversione pure qui allora vedete c'è questo sito adesso lo troviamo convert files vedete? voi è online quindi non dovete neanche caricarlo non vi occupa spazio scrivetevi questi io ho creato anche la cartellina con i collegamenti di modo che ve li posso lasciare e poi cliccate di sopra e ci andate quando si trovano in dropbox ecco ovviamente vedete quando sono gratuiti scordatevi di togliere la pubblicità aspettiamo che lui abbia fatto tutto il giro e poi toglià eccola qua se n'è andata da sola noi non li tocchiamo cerchiamo che facciano il loro lavorino scusate vedete? scegliamo un file qui nel nostro browser eccolo facciamo finta qui Giovanni Allevi abbiamo lab mettiamolo qui poi oppure l'abbiamo scaricato no no non ci interessa questo input che formato vogliamo vedete possiamo scegliere tutti i formati che vogliamo per trasformarlo e poi lo possiamo convertire eccolo qua convert file convert ok dimmi è dal proiettore non riuscite a vedere qua si si vede ok è quello lì è questo comunque io poi vi metto tutti i link quindi ce li avete potete tornarci nei vostri computer bene questo è importante appunto per poter convertire questo programma è importante per poter convertire i file ci siamo? adesso andiamo a vedere invece dei link a foto queste molto belli guardate questo sito pixels campo obbligatorio qua cerchiamo delle foto che ne so mettiamo rete ok andiamo a vedere sorry non ci sono pictures di questo genere eh forse sì vediamo eh sì eccolo guardate guardate che bella questa rete facciamo adesso la vogliamo salvare vedete destro salva immagine e guardate c'è una bellissima estensione anche bellissimo formato ok potete scegliere per argomento le immagini che volete poi ce n'è un altro ancora sempre per le immagini molto bello immagini gratis Pix Bay eccola qua questo è in italiano tutte le immagini andiamo a vederle guardate guardate che meraviglia Bay Pixabay Pixabay guardate anche questa prego eccolo eccolo qua Pixabay eccolo lo vedete eccolo qua non lo vedete adesso faccio così tranquille tranquille ve lo faccio vedere subito eccolo qua adesso lo mettiamo qui nuova slide dove sta incolla ah devo scrivere inserisci testo bay punto comma mi sembra ok ci siamo sì va bene poi un altro sito invece per poter usufruire di video gratis no questo questo qui vi dà possibilità sia di immagini dove è e video gratis guardate qui ci sono scritte tutte le immagini se noi entriamo dentro selezioniamo video ok cerchiamo eccoli qua qui abbiamo dei mini video guardate sempre in Pixabay adesso lo sta caricando guardate che bella risoluzione e l'estensione mp4 eh subito si può utilizzare non c'è bisogno di conversione vedete e sono su tanti argomenti questi tipi di video scaricarlo bene download gratuito guardate download vai e lui me lo scarica adesso a me non mi interessa però voi vi dovete poi sempre creare questa cartellina sul desktop nella quale fate confluire le cose che voi scaricate i materiali che voi scaricate in base appunto alla loro qualità è il loro tipo in questo caso ancora musica avete bisogno anche di musica ok c'è un altro sito per la musica giammendo eccola qua le melodie guardate voglio voglio usarla motivation facciamo finta di questa adesso vediamo vi dico anche questa com'è la è tutto vedete un lavoro previo quando si fanno i video eccolo qua giammendo vedete eccolo qua vediamo se si home si questo qui e ci sono per strumentare guardate di vari tipi canzoni strumentali senza copyright quindi state tranquille potete pubblicarle sui vostri sui vostri siti certo non è la qualità certamente questo come potete immaginare è un lavoro che richiede una buona dose di creatività allora abbiamo detto passione creatività e tanta pazienza questi sono tre ingredienti che devono far parte di chi vuole realizzare un video sono indispensabili non basta soltanto la volontà di io voglio realizzare un video bisogna che ci siano anche questi ingredienti ok passiamo adesso a vedere in breve abbiamo ancora un po' di tempo un quarto d'ora per vedere come si realizza un video attraverso questo programma online chiudo no aspetta chiudiamo dove ce l'ho eccolo qua benissimo ok allora questa questa è l'interfaccia che noi abbiamo possiamo ricominciare da capo così lo vediamo dall'inizio eccolo qua ci siamo questa è la schermata iniziale io voglio entrare provalo fino a domani sera gratis quindi mi è andata ancora bene eccolo qua mi dice chiudo questo parte e poi mi dico cosa voglio fare creare uno slash show oppure un college di tante foto cosa voglio fare voglio creare uno slide show un videoclip ok voglio usare i modelli che già Kizoa ha oppure me lo voglio creare io secondo i miei interessi l'obiettivo che io ho davanti beh me lo creo come voglio io voglio essere autonoma libera mi dice adesso in questo passaggio l'orientamento l'orientamento del formato finale ossia se lo voglio lo chiama paesaggio o ritratto paesaggio ovviamente più ampio ritratto oppure fa più delle delle zoomate in prima in primo piano e poi mi dice questi questi formati mi parla di questi formati 16 2.9 4 3 3 2 1 1 cosa vuol dire quando voi lo proiettate lo proiettate sullo schermo il 16 2.9 prende tutto lo schermo e io voglio questo non voglio quegli altri formati che non voglio che si veda tutto il nero intorno chiaro? allora gli dico si conferma ma lui me lo mette anche in automatico questo si adesso mi dice seleziona vedete che comincia a comparire vedete qui sotto lo storyboard ok qui in basso mi dice di trascinare qui anzitutto beh seleziono un modello io seleziono questo ma non mi interessa in questo momento non lo voglio torniamo indietro cancellate delete ok adesso io voglio crearmi la mia cartella di foto vado qui vedete dice ma dove le vuoi prendere le foto? dal mio computer le prendo perché ho creato preventivamente le mie cartelline ok vado a prendermele vado a prendermi le mie cartelline adesso le apro no non sono i siti ma è quest'altro viaggio ecco qua le mie foto benissimo sono tutte queste e io voglio che vada a finire tutte all'interno di questa cartella che creo sta caricando tutte le foto eccole qui vedete sul viaggio bene adesso le lasciamo lì per un momento voglio che mi carichi anche la musica vado qui musica aggiungi la musica questo è l'assistente che è sempre molto diligente ci accompagna in questo caso non mi interessa lo chiudo mi dice aggiungi musica perché lui ce ne ha ne ha anche Chizoa che me la può me la può offrire vedete questo ad esempio sentite ok non mi interessa la sua musica io voglio che lui utilizzi la mia oppure se ho un canto da visualizzare lui non può averlo ce l'ho io questo canto quindi guardate qui in fondo a sinistra aggiungere la mia musica ok vado qui dentro trasferire la mia musica su Chizoa benissimo vado a cercarmi la musica che ho scelto eccola qua la carica pazientare per favore vedete ce lo dice anche lui un po' troppo però benissimo adesso chiudo perché me ne basta una in questo momento vedete che è andata a confluire è andata a confluire all'interno della cartella della musica ok mi seguite ci siamo bene adesso ritorniamo vedete qui sopra nella barra superiore ci sono tutte le cose che a noi possono esserci utili per realizzare un video dinamico animato cominciamo a creare questo video ah intanto io mi sono mi voglio preparare anche un testo me lo sono preparato nella cartella perché io vado a farmi dopo copia e incolla e poi gli metto le varie animazioni qui ci sono tante animazioni e il tutor me lo fa vedere qui a lato come verrebbe appunto l'animazione sopra le immagini ci siamo? seguite? ok cominciamo torniamo cominciamo sempre io comincio sempre io penso che sia utile cominciare sempre dalle foto comincio a inserire le foto allora io mi sono messa queste foto ma non sono nell'ordine beh comincio con questa lo zaino ok mi dice senza ritaglio verrà posizionata questa immagine come appunto è attualmente non c'è nessun ritaglio continuare benissimo mettiamo lo zaino poi mettiamo le direzioni varie ok le trascino e le metto lì poi cosa ci mettiamo la strada su questo storyboard lo vedete io non vedo adesso l'immagine là sotto le prendete le trascinate in fondo poi mettiamo che prendo l'aereo trascino questa immagine mi sposto qui vedete questa questa barra in basso vedete che sto spostandola io per poter inserire le altre immagini mi seguite ancora voglio mettere alla fine del viaggio le foto che io ho fatto durante il viaggio la macchina fotografica che sta a indicare simbolicamente i ricordi che io porto con me dai perché non me lo fa vedere eccolo là comunque c'è ci sono ci siamo andiamo avanti allora ho messo le foto le transizioni le metto dopo in base alla musica in base alla velocità della musica ok inserisco apro qui la musica quella che io ho individuato ok la scelgo per il mio slideshow benissimo ottimo adesso è associata al mio slideshow infatti se io faccio una prova vedete qui al lato destro provare ok un'altra caratteristica di questo tipo di programma online è che essendo free non può durare più di un minuto per cui vi obbligano in un certo senso a fare la versione a usare la versione la versione premium il video non può essere più lungo di un minuto vedete in questo caso io ho qui il time vedete qua sotto il timer questa dura per il momento come io l'ho confezionata dura almeno pochi secondi no ma guardate che i video per fare effetto ricordatevi questo non devono essere di tre quattro cinque minuti a meno che voi non fate tutto un processo anche di di storie dipende da cosa dovete rappresentare ma in genere ciò che colpisce è breve è breve chiaro poi vi faccio vedere un video realizzato dalle nostre novizie qualche anno fa per invitare ad un campo scuola i giovani anche che hanno postato su facebook sui vari siti è meno di un minuto realizzato semplicemente con un telefonino con un telefonino che aveva la possibilità di fare i video hanno utilizzato della musica è scritto loro il testo ma brevissimo e quanto poi voi mi direte se questo video è incisivo o meno meno di un minuto dura quindi la durata fate cose brevi perché poi uno si stufa poi noi ci ripetiamo ci ripetiamo non c'è niente da fare e ricordatevi che ognuno di noi ha un suo stile nel fare i video perché rappresenta una parte di noi rappresenta sempre una parte di noi ok due minuti benissimo siamo quasi alla fine perché io non ho la pretesa qui di farvi vedere tutto perché non possiamo farlo ci vorrebbero vari giorni e voi dovreste fare un po' il compito di prepararlo poi vedere dove vi inceppate o è poi ritornare è così prova ed errori ok abbiamo visto che le immagini funzionano con la musica sottostante adesso vediamo un po' le animazioni delle immagini vedete la prima clicco sopra alla prima immagine molto leggermente mi dice aggiungere testi sì sì vado sul più com'è qua adesso vado sul più e mi dico conferma aggiungere un tasto rapido è semplice bene mi apre la la parte dei dei testi facciamo finta che io voglio utilizzare guardate quante possibilità di animazione mi dà le vediamo sempre al lato destro sono tutte le animazioni sono molto belle queste animazioni per questo mi piace questo sito facciamo finta di utilizzare ecco facciamo finta di utilizzare questo ok lo portiamo sempre trascinando avete visto quelle operazioni che ho fatto ho trascinato e qui scrivo il mio il viaggio il viaggio ok lo vedete riuscite a vederlo eccolo qua mass o meno facciamo un testo grande già è già grande io dico molto grande ma ve lo faccio vedere perché voi potete farlo grande piccolo per dirvi che c'è il comando qui poi qui colore anche voglio rosso lo voglio rosso ok vediamo se vedete clicco due volte me lo fa venire rosso mi sta bene rosso ok gli dico conferma conferma qui e conferma qui voglio provare se l'ha preso vedete adesso no ma non basta io metto il testo ma voglio mettere anche le transizioni le transizioni sono i passaggi qui sempre me li mostra vedete a destra cubo orizzontale va bene sempre con l'idea del trascinamento io prendo e lo trascino qui dove c'è la T ossia transizione poi ne prendo un altro a caso metto quest'altro questo ancora ci siamo? mi seguite? ok poi da altri due minuti due minuti la nostra amica e vi faccio vedere che ci sono anche altre cosine carine da aggiungere aggiungere effetto guardate che simpatico aggiungiamo clicco sopra questo sempre lo metto trascino sempre sopra l'immagine non ci sta in questo caso non ci sta però per farvi vedere che si possono aggiungere diversi effetti sempre conferma ok conferma proviamolo cambia colore oppure vediamo un po' cuoricini facciamo questo ok sempre conferma conferma volete fare una festa di compleanno volete ricordare qualcuno quest'altro eccolo vediamo un po' conferma conferma bene proviamo volete creare un video show natalizio ci sono questo dipende dall'obiettivo ok direi che le cose principali ci sono non so se avete qualche domanda perché poi dopo io non ci sarò alla fine di tutto per fare per rispondere sì questo programma anche quando mette video si può tagliare sì 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 si può tagliare anche il video assolutamente eccolo noi abbiamo qui il video sì effetti foto vedete qui c'è sempre oltre le foto c'è anche la possibilità di inserire video vedete dal mio computer vado sempre qui dove io ho salvato preventivamente il mio video che è questo lo trasferisce e lo inserisce ecco dobbiamo fare attenzione perché i video sono sono molto lunghi a volte quindi dobbiamo fare attenzione che siano video brevi per questo tipo anche di programma free se poi invece lo acquistiamo allora possiamo usare anche i video più lunghi sì un'altra domanda si può aggiungere parole parlate cioè io parlo assolutamente assolutamente sì le registrazioni sì mentre si fa il video si può registrare io l'ho fatto in diversi in diversi video c'è l'opzione sapete cosa si può fare anche che voi registrate il testo su powerpoint powerpoint oppure audacity o altri programmi che vi consentono questo lo registrate in formato mp3 e lo caricate come fosse una musica come vi ho fatto vedere prima come se fosse musica voi lo caricate e poi lo inserite chiaro? sì niente sì io volevo chiedere se può ripetere dove sono come si chiamano i siti dove ci sono tutte le foto e tutte le musica io ve li lascio qui ve li mettono nella vi lascio già i collegamenti ai siti quindi lo troverete su Dropbox la presentazione con il link diretto lei farà un pdf abbiamo il pdf eccolo qua io ve li metto già qui questi sono ecco io vi lascio tutti vedete questi tre ve li sto indicando no? siti per musica e video ok io adesso li prendo e li metto qui così potete poi prenderli nella cartella ecco ho creato la cartella pina dentro così li avete già tutti e potete utilizzarli sì una domanda una volta che è scaricato il video che è finito comunque si può ancora buona domanda rifare o fare qualche modificazione online oppure è chiuso e dipende allora per poterlo salvare e poterlo inserire nei media digitali dobbiamo chiuderlo il video il progetto deve essere salvato e chiuso ma attenzione attenzione perché vi ho fatto fare quelle cartelline perché quelle cartelline voi vi dovete sempre ricordare dove le avete poggiate è come un tavolo no? vi dovete ricordare dove avete messo i vostri oggetti allora sempre vi consiglio di appoggiarli sul desktop i vostri oggetti ok? se voi volete modificare il video voi andate sempre l'avete l'avete nominato gli avete dato un nome a quel video lì quindi quando aprite il programma aprite il programma cercando il nome del video che voi avete salvato quando voi lo aprite vi riapre il progetto il programma di realizzazione vi riapre il progetto iniziale però se esatto il progetto vi riapre non il video definitivo però attenzione attenzione voi dovete mantenere sia le immagini le foto i video la musica come le avete utilizzate altrimenti lui dice io non trovo più i materiali con cui tu l'hai fatto se voi prendete li buttate li salvate o li mettete dentro documenti lui non li trova più e invece dovete tenere presente sempre questo accorgimento questo materiale dovete lasciarlo metterlo io faccio così ho delle cartelle dove metto ad esempio ho realizzato un video su invochiamo la tua presenza dentro questa cartella con invochiamo la tua presenza che è un canto allo spirito santo dell'innovamento molto bello ho creato creo dentro un'altra cartella che ho scritto desktop 1 ad esempio dentro metto foto video immagini testi e musica che io so che significano che questo materiale qui io lo devo ripristinare sul desktop altrimenti lui non me lo apre e non vede più il materiale del progetto dice qui manca la foto mettimela altrimenti io non te lo leggo il progetto qui manca la musica invece se voi lo mettete sul desktop lui lo riapre ancora in lavorazione e quindi potete modificarlo ok bene ringraziamo Swerpina 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 Swerpina